salve a tutti amici di professioni led quest'oggi torniamo a parlare del k44 11c il dimmer connesso della btc per rispondere a una vostra domanda nel k44 11c che come tutti sappiamo è questo apparecchietto qui ed è un dimmer connesso quindi lo possiamo far funzionare anche con la sua app tramite gli assistenti vocali e non per ultimo anche tramite proprio il pulsante fisico possiamo aggiungere dei classici pulsanti normalmente aperti oppure siamo obbligati a farlo funzionare da un solo punto e solo ed esclusivamente con il k44 11c come potete già intuire da quello che vedete qui sul nostro tavolo è possibile aggiungere altri pulsanti quindi possiamo pur avendo un dimmer connesso k44 11c nella stanza creare delle accensioni perché capita sempre più spesso è una cosa normale che in una stanza non ci sia una sola accensione ma magari ce ne sia una all'entrata e una all'uscita della stanza oppure la stanza per qualche motivo fa chiamiamo così da crocevia per diversi ambienti allora come ad esempio in questo caso ci sono tre accensioni che devono funzionare entrambe per accendere e spegnere l'unico punto luce ma vi faccio vedere molto semplicemente come funziona questi sono due classici pulsanti normalmente aperti e questo come voi avete visto il k44 11c io posso accendere da una da una zona di pulsante spegnere dall'altra zona di pulsante riaccendere dal dimmer k44 11c quindi io da tre posizioni ho fatto accensione spegnimento posso diminuire la luminosità dal k44 11c aumentare la luminosità dall'altro punto luce diminuirla dall'altra dall'altro punto luce e spegnerla da k44 11c riaccendere aumentare diminuire aumentare e scusate diminuire e questo qui perché c'ha la posizione non è come l'altro quindi aumentare spegnere riaccendere insomma avete visto funziona benissimo quindi è possibile utilizzare il k44 11c con più pulsanti si si può fare quanti pulsanti si possono collegare non voglio dire infiniti però in parallelo almeno tre quattro cinque pulsanti li potete collegare come li colleghiamo di seguito vi lascio in sovrimpressione per una decina di secondi il lo schema di collegamento di un pulsante basta replicarlo per tutti i pulsanti che voi vi possono servire come avete visto lo abbiamo utilizzato col nostro alimentatore dimmerabile che è fatto proprio per poter funzionare anche con il dimmer bdc no k44 11c in descrizione vi lascio il link proprio dell'alimentatore e anche della striscia che ho usato per fare questo video che come vedete è un bellissimo prodotto ci vediamo per i prossimi video tecnici spero che sia stato utile questo breve tutorial che ha risposto a questa domanda semplice ma molto importante lasciate un like se vi è piaciuto il video e ci vediamo ai prossimi video di professione led a prossimo alla prossima